Eccomi sopra il col degli astesiani, là c'è l'alpeggio di Ratt, adesso scenderò qua sotto e poi risalgo, vado su, sulla punta Sbarome. L'elicottero si sta sempre allenando, io sono sopra, ah eccolo là, si è messa sopra la tomba di Matolda, è lì, non so se si vede, ma è atterrato là proprio sopra il cocuzzolo della tomba di Matolda. Il colombardo è un po' più giù, eccolo là, sopra la pietra, lì nell'angolo. Io invece sono arrivato da qui, da questo cocuzzolo. Praticamente arrivo da qua sopra e vengo su da tutte le creste, laggiù, sono passato lì sopra quella cresta, salendo da laggiù. E adesso continuo, l'elicottero mi tiene compagnia. Eccolo lì, e va su, sulla punta Sbarome anche lui, probabilmente. Eh già.